Ciao fiorellini, ciao fiorelline, oggi facciamo il video dell'evento, il calentario dell'evento e ho preso della Kinder e dovrei rubare queste cose qua, speriamo che troviamo presto i numeri giusti e ho preso una busta per metterci i cioccolatini, via la sera! Ecco sono ritornata, tiriamo giù, allora dobbiamo trovare uno, qui due, allora l'uno, ecco l'ho trovato l'uno, vediamo cosa c'è dentro, se riesco, se riesco, aprire lo sportellino, allora abbiamo trovato questo qua, c'è l'uno, e adesso troviamo il due, e l'abbiamo trovato subito il due, vediamo cosa troviamo qua dentro, speriamo non troviamo sempre le stesse cose, il numero due, abbiamo trovato questo qua, numero tre, allora numero tre è questo qua, quindi dovrebbe essere un toccolatino un po' più grandino, vediamo cosa c'è, mmm biscotti, i miei biscotti preferiti, mi piacciono un botto questi, adesso dobbiamo trovare il quattro, e quattro, eccolo, quattro, questo che abbiamo trovato prima, mi sa sempre stesso, l'abbiamo trovato il quattro, penso che si trovano due qualità, adesso troviamo cinque, vabbè, questo è il quattro, il quattro, il quattro, allora, cinque è questo qua, la kinder è troppo buona, allora, oppure l'unghietta, se è cinque, sto qua, vediamo se troviamo doppioni, il quattro, il quattro, troviamo il quattro, mi sa, si parla, trovo il quattro, mi sa, mi sa, è, so, ho il quattro, troviamo il quattro, troviamo, il quattro, trovo, trovo il quattro, sil precious luogo, triplo, ha, trovo il quattro, triplo, ah beh, questo è l'altro gusto, però, in grado, questo è il quattro, questo è pianco, p Odega, tutto qua, non ci altro importante, quieren piattere, 7 lo troviamo il 7 a troviamo il 7 eccolo l'abbiamo trovato certi e sono due l'otto abbiamo fatto subito l'otto questo che è 3 l'ho trovato 3 dobbiamo trovare il 9 se riesco a tirare fuori aspettate oh è grande è grande il 9 mio nipote per intanto trovo il 10 mi ha detto ma mamma quanto lo apri questa non posso aprire perché devo farci il video ecco questa è 10 l'altro di questi 10 e 11 sta diventando il genetto questo qua le 12 11 questo è 11 3 l'ho trovato finora 3 allora 3 di questi 3 di questi e dovrei trovare quell'altro le 12 vediamo un po' dove è stato 11 eccolo qua sotto aspettate è un po' l'ucchietto che sta a fare un po' tutto questo qua poi questo a 12 e questo è il piedi questa qua sopra questo qua sarebbe questo qua che l'ho trovato i tuoi 14 mettiamo dove sta il quattordici quattordici c'è quindici e trovo il quattordici eccolo vediamo cosa trovo qua dentro questo qua a io quanti di questi 1 2 3 4 4 14 poi 15 vediamo dove sta 15 dopo vi faccio vedere tutti quelli che ho trovato ma allora che 15 quelli 16 a 18 eccolo 15 vediamo cosa troviamo nel 15 un altro di questi ma sempre cioccolatini perché che ci trovi 15 16 16 eccolo 16 vediamo cosa ci troviamo questo poi tocca aprire tutto questo qua questo ecco ce l'ho 2 allora 17 cosa dobbiamo trovare il 17 l'ho visto prima e non lo trovo ora il 17 eccolo il 17 vediamo cosa si trova nel 17 perché quando sono troppo grandi la castrappa sotto e sopra questo qua l'avevo trovato? si ecco dopo vi dico tutto quello che trovo vediamo quanti sono 18 18 18 eccolo sta diventando leggerino questa scatola speriamo non si buca aspettate vedete come posso ecco abbiamo trovato un altro di questi questa qua 19 troviamo il 19 ho trovato il 19 vediamo cosa c'è questo qua il 19 il 19 il 20 il 20 il 20 il 20 il 20 vediamo cosa ci trovo quindi ho trovato questo qua comunque la de kinder sempre la kinder sempre più buoni della kinder non c'è poi 21 troviamo il 21 all'ora dice a 22 21 dove sta non trovo il 21 eccolo il 21 questo qua questo qua l'avevo trovato se uno il 21 22 tocca trovare il 22 eccolo 22 oddio questi lo trovi tanti 22 e 23 c'è prima 24 23 se riesco a bucarlo questo qua qua se l'ho trovato in 2 e 24 proviamo il 24 poi abbiamo finito 23 24 eccolo 24 e abbiamo finito sì perché non c'è più niente ok io adesso tiro su la fotocamera allora questi qua sono tre uno due e tre questo qua sono tre poi questi qua invece sono a faccio vedere questi sono uno due tre quattro e cinque e cinque poi questi l'ho trovato in due questi l'ho trovato in tre questi qua tre questi questi l'ho trovato in due questi pure sono due questi l'ho trovato in tanti invece questi tanti uno due tre quattro quattro cos'è tra di tanti eh cinque e sei mamma mia tra di tanti quelli ecco ok adesso abbiamo finito spero che vi è piaciuto vi ho fatto compagnia vi è piaciuto questo calendario dell'evento e adesso ciao e al prossimo video buon bacio